qui ma non in live perché in live avevo il microfono muto ah e allora ma a te sentono, a te sentivano, non sentivano me ah scusatemi allora ho spaventato la chat perché tu non mi hai sentito comunque ciao ragazzi, ciao belli Rona a questo punto se vuoi puoi giocare anche te eh certo ma non mi avverti ma mi pensavo tu se sei ancora con Enrico ma io, oh no l'urlante ciao Larisse ciao Larisse che non so chi sia ma come non so chi non mi ricordo ma è un tuo compaesano, non un tuo compaesano è un mio compaesano, ciao compaesano non è proprio di Roma, Roma comunque a lei è veramente uno stronzo che scusate, ma lei è di due e sarà solamente te ah ma c'è che pezzo di merda io sto a una merda col fantacalcio non c'entra niente ho tirato una ditata contro un libro che cazzo di male ciao Salkiri ma quanta gente stasera ciao belli ragazzi qualcuno vuole unirsi a sto punto perché io pensavo di rankare ma visto ci siamo tutti allora rankiamo tutti al massimo col regionale a voglia tu sei una merda al fantacalcio? ciao Mello oddio quanta gemma che porca mignotta ma faccio la live e siamo in tre arriveranno in quattrocento eh sì stasera è che fate il mio gioco preferito ma allora in realtà io volevo portare Death Door però c'è veramente un'altra cosa che chiede a giocare a LOL però allora aspetta che mi metto la chat sul telefono sì eh sono in Aram porco giudabile diciamoci facciamo una partita poi quando finisci easy guarda quanto finisci boia un minuto è iniziata basta che non ci sia a giocare oddio chi ha con chi è che non mi trovavo no no con l'Arzook ma l'Arzook è già in game ma non è che non mi trovavo bene spero la tua speed run di Death Stranding mamma un cocello penso se ti devo vedere Giazzi in una stream dei Climicorci è bello ma ciao Kenshin mamma mia Kenshin quanto sei gnocco noi so finiamo una missione su The Witcher 3 è stata una che la mia ragazza torna per finire insieme oh che carine ma dove siamo finiti ma come stai Kenshin ma che sta aiuto quest'oggi ho pagnato tutti ma Rama ma perché tu non stai avviando LOL perché non mi va Twitch sul telefono non è la risposta alla domanda io ho fatto non ne so però aspetta mi continui un cerco gioco Mel sono tornata l'altro ieri a casa dammi tempo di farlo se tutto va bene potrei farlo sabato se non mi escono robe sabato sera potrei farlo sabato ok ok ragazzi sto faticando tantissimo a streamare perché la sera mi ritrovo che non ho voglia perché per la sera arrivo cotto potrei farlo dopo dopo pranzo ma dopo pranzo faccio solamente un'ora di lì cioè potrei farlo solamente per un'ora e mi dispiacerebbe vediamo se va bene Marco come stai molto bene grazie a te Mel quindi ora vado mi raccomando mio caro spacca i culi in modo gentilissimo a voglia a voglia a voglia a voglia ciao Larissa Marco ordinato non avrete cose in edizione in gioco quando ti arrivi ti dico ma che figata che figata dove l'hai ordinata? voglio vederlo anche voglio vederlo anche io ce la posso fare sta partendo lolle penso che salchiri voglia unirsi perché ha avviato lolle quindi lo invito c'è qua un cane ebay che figata nick vola fuori e nick mando c'è anche simone che ok io ho dormito dalla quattro e c'è 19 e ho venduto a colpa di mia madre che non mi fa dormire la notte no sei tu che non dormi perché devi studiare di notte t'ho visto le storie sai ciao anche a te se vuoi inirti pure te murri ma guarda ti sposto ti sposto ti sposto ah no pensavo quando poi c'è la stanza gioco oggi in france ciao murri ragazzi vi ricordo che se volete unirvi guarda gli spettatori guardiamo gli spettatori c'è non ci sei pezzo di culo bastardo ciao salchiri no non c'è però c'è sinfi ti vedo eccolo salasso sinfi ti vedo devo filare mettiamo support e mid no rani io lo sveglio perché mia madre lo stava sfacca ok ragazzi manca un quinto che vuole farci da quinto murri beh mel almeno tua madre non ha avuto un attacco di panico da occlusione della gola la sera prima di un esame di giapponese del tuo penultimo esame di giapponese davvero porca troia alle 3 di notte mi ha svegliato non riesco ad ispirare non riesco ad ispirare sinfi sei in quarantena mi dispiace no sinfi la seconda no sinfi ragazzi vi ricordo che se volete tenervi su discord ma nemmeno il pc per giocare all'ol non mi piaceva già bene guarda che logica su qualsiasi cosa salchi ma non ci sono nessun problema cioè non ci sei per giocare o non ci sei per stare su discord e comunque vi ricordo che se volete entrare c'è l'ultima stanza ecco qua dove c'è già entrato murri ciao murri hello ciao come va con chi sono in bot con murri con murri ok perfetto io vorrei rientrare su twitch salutate la canona ciao aspetta che io non la vedo ancora ciao ciao come questo cane quanto è ferozio quanto è ferozio quanto è ferozio ciao patata guarda che bella che bella guarda che bella salchiri 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 non ho capito se mo non ci sei in live o mo cioè su discord o mo non ci sei in game hello ok credo che allora ragazzi vi ricordo di murri non ce n'è tra cui preoccuparsi ma simone mi raccomando le cose di certo le parole pazze vanno dette bene vanno dette bene esatto scandisci bene esatto scandisci scandisci bene vasili 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 ragazzi io veramente ho detto la parola pazza marco narnia o no adesso cosa farai eh ho struttosto il canale eh a me dispiace non penso che ad esse punto dovrò aspetta 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 non si è bannato per sempre da licofladen perché io non è che ho detto narnia 9 marco non è che per video cancelli non è che per video cancelli anche questo gioco no 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 questo è che è difficile beh dio resta anche bene ciao kenshin mi sono subito a fuori kenshin sai che gli manca il ruolo perché è una f-word ah no lui non lo so sai non lo sono sempre chiesto spero di no clown dove è l'ultimo waypoint che devo sbloccare no le ho toccati tutti dove è la mia questo non è la mia prima jam gratis perché ho trovato tutti i waypoint maledetto gioco non è quello lì non è quello che tutto va bene nel dubbio segnala ma il fatto segnala il fatto è che io non so veramente chi cazzo sia non so perché ce l'ha detto io vi giuro che non so chi è sì è il secondo nella mia lista comunque abbiamo 11 spettatori amici ma che bello siete credo sia un amico di zelnite di zelnite probabile perché ce l'ho pure io tra gli amici quindi oh cazzo devo ma scusami devo resubbare pure ma cazzo io non penso ragazzi ho comprato una bilancia che mi arriva domani 25 euro ben spesi della xiaomi in penenziometrica dove arrivi penenziometrica sì penenziometrica così posso solamente vedere che ho il 99% di massa grassa e il 1% di massa magra mi dispiace ma se non metti il ruolo io devo togher perché siamo i primi dubbi da due ore tanto a League of Legends non interessa la stessa segnalità per esempio ieri trendamerat qui in rank ovviamente hanno stato evviva yeee quella magra nei capelli esatto mi sposti su discorsi scusami mi sposti su di no volevo fare così so Kiri ehi scusate mi sei baggato ah vedi vedi allora aspetta ti tiro fuori e e ti rinvito no mi ha perso la cia mi ha perso la streak no ma si non è vero grazie era un pozzola e volevo avere lo stemma ma hai riavviato il game ma hai c'hai 22 mesi si ma poi dice spunta per far vedere che sei abbonato da un mese piano ah ma perché quello è buggato io non mi ricordo se sono cosato io non lo sono comunque ciao salve 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 io Marco io non ti vedo invitabile adesso ti vedo invitabile ma che io sono un founder quindi ah si io sono un fauno che vuole in realtà è rimasta la top ok se no se vuoi provo andare a intare io in top ma già sei into in botte tanto non intare con me la box la posso one shotare con un assassin allora amici vi ricordo che io faccio cacare quindi non ve la prendete con me io sono un pessimo di carry ma io ho già deciso che oggi puoi notare perché perché hot anime fit non è online non posso avvencare ragazzi la cosa bella è che la mia cam è precisa sopra il il costo della chat quindi io posso scrivere qualsiasi cosa e nessuno non lo saprà mai cazzone dice simone marco ma perché dice le parole pazze io ho avvenito ovviamente cagnone io vorrei ricordarvi che era un po' sedile il motivo ma il nome di simone è bannabile in un sacco di giochi tant'è che devo anche cambiarlo adesso non è più bannabile davvero aspetta che devo bannare ma guardalo guardalo che c'è pingu che è in l'urk comunque c'è l'acronimo però non l'ho trovato perché bannano yumimo infatti la prossima volta che posso cambiare nome metto kgg stavo per dire che 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 ragazzi devo cambiare nome perché mi sono rotti coglioni che la gente vede che sono dell'italia ragazzi adesso vi faccio vedere una cosa bellissima questa cosa qua jinks contro kate l'ho appena presa è nuova nuova quella skin ma te l'hai vista in game simone ragazzi contro kate che posso giocare ragazzi vi faccio vedere questa cosa è praticamente è la best wife oltre al fatto che la best wife sono lì è la lucertollona di dark souls 3 Little Circle 95 no basta no non c'è la croma Little Circle 9 no com'è che ti chiamavi sul Nabbo Natale Nabbo Natale sacoli fa mi ci chiamavo ma io voglio qualcosa perché non si noti che sono dell'italia e Nabbo Natale diciamo ma io devo cambiare le rune regà perché non me l'ho ricordata ma scrivele in spagnolo Nabbo Natale sì cosa vuoi vuoi no vai Morgan va benissimo Morgana tanto io faccio schifo quindi non non devi giocare attorno a me avete doppio spell shield con la piena di cristalli di cristalli mi raccomando non fate casino con gli spell shield voi due avete uno a testa non ve li mettete uno sopra l'altro io non posso metterlo a lei quindi posso metterlo solo a me stesso guarda che bella Morgana portatrice dell'alba la voglio porca puttana dell'alba parietti vuoi mettere Sivir pizzaiola San Nicola no mi metto operatrice tra l'altro io sono un grandissimo imbecille la colpa è mia perché ho visto che sa chi li vuole andare a Mortecaiser quindi ho detto vabbè vado a di non ho visto che poi avevano piccato però vabbè ne è trovata ieri da reroll e no io ho usato i soldi del del prime io non li ho ancora usati diamo a P no no c'è non c'ho in squadra che diciamo e scudo non serve che vado l'unico champion che sto a giocare in questo videogioco sennò potrebbe avere come un nome quella cosa che rimanda a D'Arso che bello Arguinartoria secondo me del cazzo Morgana Alba parietti ok ma ti odio gemo ma perché hai questo culo immenso gemo perché non ti basta su niente ma non è questo è un po' di shaming no questo culo immenso di fortuna ma non è che ha fortuna è che è un e-girl quindi cioè quindi scioppa no quindi gli regalano no no gli regalano ah i sui dei già ragazzi quanto sono fico sei molto fico sì guardate il back che bello good christmas scusate un po' che non c'ho un figlio avanti poi assassin 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 cioè eclipse adesso te li pingo tutti un attimo oh safari ok ti ho pingato alcuni degli item che puoi buildare in realtà ti ho praticamente ho pingato un'intera build però devi anche mettere le scarpe com'è che se siamo impandati tra l'altro Marco è vero tra l'altro questa skin qua è palestimente una spirit blossom mancata penso che se lei avrete di utile il tuo mixtape cos'è il tuo mixtape ma ti è arrivato il mio messaggio sì sì mi è arrivato un arnio vediamo Murray pizzaiolo io posso rispondere a dado spero che voglio in live mi hai rimesso io mi ero impostato i comandi per riuscire a fare la sta autoattaccando recentemente perché sì ho scoperto tipo al livello 200 cosa? di carry che c'è un tasto per kaitare no ah la A non è detto perché io ho richiamato tutto dipende cosa metti te di base è la A cosa vuol dire kaitare? io non ho le abilità su QW e R quindi run kaitare vuol dire che praticamente tu fai gli attacchi e fuggi non mi ricordo chi giocava con le abilità su 1 2 3 4 fragola manche un altro jungler eh coso night blue ma che fine ha fatto? un boh io ho sbagliato tutte le pozioni invece che due sole Dado dice run kaitare vuol dire che Mark è fortunato a scopare se usa sto linguaggio dai imbecilli ma perché non lo leggo non lo leggo perché mi scrive in privato mi sto scrivendo in privato su lol ma perché sei scemo Dado e ti saluta dice ciao run ma Dado eh Dado Dado oh avrò una scheda grafica a un prezzo un po' maggiorato rispetto a quello che mi avevi detto Simone è morto però è comunque ancora abbordabile non 1000 euro sono felice per una volta mio cognato è è stato utile arrivo top salchilo porca troia gagno quanto lo vivo dimmi tagliere non è che io ti regalo la mia 1070 e ti mi do quello no perché è una 3060 ha flashato siamo al post ma quando mi ha 1060 dato dice ma perché prenderlo un mese fa al prezzo che ti dicevo io ti faceva schifo orcomorco se sono morto è che almeno mi sono arrivati due stipendi nel mezzo vai che te lo fai vai che te la fai c'è la W se ce la te la fai no niente c'è cosa ma hanno fatto loro porca merda per anche scuse di merda tu meriti gli scalper l'ho detto che è in sto c'è spuglio scusami ho detto è in sto c'è spuglio e l'ho wardato ma come cazzo sta giocando questa ma che cazzo ho sentito ma con ognuno gioca come scusami ciao ma quando finira di parare del kpop comincerò a leggere le due storie come stai dice a parte che lo leggi ah ma è vero io non lo leggo perché non sto guardando la live anche se una furba ah vero ho letto che sono prima del minuto 5 facendo la resistenza di Sauron grandissimo Sauron best friend thank you so much best friend Sauron sbando sbando ma finendo ragazzi sono contentissimo perché ho finalmente di nuovo la mia copia del signore degli anelli mi mancava perché dove era finita Michela che comunque non l'ha letto però giustamente Marco lasciala mi sono andato no ma lei ha visto penso una delle poche persone che ha visto il signore degli anelli più volte di me però Marco però non ha letto il libro però non ha letto il libro ma perché non c'è il tempo però Marco quanto tempo fa eri ai piccioni e manca dopo attenzione Marco quanto riguarda le tasse che mi ah l'evasione delle tasche ho letto l'invasione delle tasche cos'ho detto beh posso andarmene si mi piace pingare il drago ma che sei pazza pensavo se lo stavo facendo stavo correndo stanno salendo stanno salendo si non è un problema sono morto no no però hai preso il coso proprio se lo scatto lo worthissimo ma sapete quella è la cosa divertente che prima per leggere le varie cazzate non ho comprato Brune Brune ah Rune ciao Rune porca troia che è giocante ragazzi per favore run prova a rubare il drago run tira una cua eh tira una cua ma non da qui pazza da qui ah perché pazza run andatevene ora vai 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 mi sono cacata no Muri non lo serve la doppia prima che te ne vanno stanno ok eh c'hai con me no ma io devo utilizzarlo prima che mi arrivassi lo stun però giustamente ragazzi 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 arrivo arrivo eh no niente eh vabbè almeno ho preso non ho preso la assist ma porca miseria assuntando eh Rune una mano una cosa sul gruppo non collassare però diceva ovviamente sarà il canone sarà Edgar Edgar lamponte eh un lampone io ho un serio problema di mana lo consumo troppo io ho un serio problema di mani non le so usare di mannarino no mannaggia ma che sei stupida ma che sei stupida l'abbandona 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 è vero ma non si sbando nemmeno lui no a quanto pare mi ha abbandonato lui sì sono triste cosa io ti ho abbandonato sono rimasta indietro e sono morta mio fratello ok sì beh ma chiaramente è rimorta l'anna cioè scusami ma no ma lo so sto scherzando sto scherzando easy attento simu ci sono andato dai bertut cosa c'è da come mi ha preso cosa c'era gli morrisse la foresta di pietricite c'era un altro shutdown ma li avevo appena preso eh ma probabilmente c'era abbastanza ma no non aveva 700 di shutdown eh ma anche con 350 ce ne due che sono morto ma se è full vita quello sei rischiato la vigna ma in realtà non penso mi avrebbe ucciso forse sì forse no venga dagli una mano ho cliccato per sbaglio sta salendo sta salendo sta salendo Kate arrivo aspetta distruggo questa non può fare niente non avere lo shutdown run ah il tribus l'hai distrutto no vabbè non si credo porca miseria eccomi Marco non volevo avere uno shutdown erano ormai è un po' andato allora eh 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 prendi l'intera wave Marco e non è non è avvenuta la mia no mi spiace però metto chi è mazzo però c'hai pull mi piace le leggende non muoiono mai diventano una parte di te li senti urlare il tuo nome Marco sei bellissimo grazie mazzo anche tu eh visto il mio che sto giocando a Hollow Knight mi facevo rispitta tipo anni ah credo che se giocassi a Dark Souls o per il primo boss ma è un gioco in cui devi solamente provare provare no io rage quit ho quando non riesco a fare i boss che sto a fare bene dal primo colpo tipo che è lag rage quit instant siamo pronti per il champion nuovo l'ho visto è difficilissimo a me ispira un botto perché è bella è bello però sembra tanto difficile è fighissima l'animazione della E quando passa attraverso il muro quello si sembra tipo a Kali non è meglio le leggende dicono che Matsuo sia l'uomo più attraente del mondo faccio tento tento outplay no non c'avevo l'ulti ahia muoio ma porca che paura in ulti ho calcolato male la lunghezza non sono riuscito a prendere la ulti di Kate mi dispiace ok scusa no no ma non potevi farci niente stavo guardando dalla live perché me l'avevo perso comunque bella ultima vero era un po' bella calcolata aspetta aspetta mi stavo dimenticando questo ah di se vengo botta mao stanno salendo e stanno andando verso il Drake oh perché no stanno stanno facendo il Drake la verità che sei più figo te no no non sei più figo te jungle leaf jungle leaf se prendo un'altà che jungle leaf si guarda is the two yep sono riuscito a prenderla lei 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 ah mi avevo bloccato di mortale come è morta ma aiutate Marco ma non mi funziona la tastiera che cazzo succede ma perché non mi è ma perché non mi è ma perché non mi è no run 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 perché la tastiera non mi è funzionato ragazzi vi prego ma perché ve ne siete andati da me io cioè ora ho rubato il drago e voi ve ne siete andati no Marco non sono mai venuti al drago io non ho mai venuti al drago eccetto run eccetto run sono tutti andati verso Caitlyn morta ma perché ragazzi cazzo avremmo ucciso quella mostra 832 ma già la miseria ci ho provato e ne ho fallito eh no doveva diventare un sacco prima no ma no vado giù sto laggando non puoco io avevo bisogno degli NPC cazzo avremmo cominciato poi ho smesso di giocarci cosa? ah il gioco quello delle signore di cogli insetti all all night io dovrei andare avanti in realtà l'ho finito ma sono all'84% ci ho finito il primo il primo katà e il primo tizio? no sì la prima fine ah come me allora dov'è quell'aragno che palle quante trappole Caitlyn merda è pieno manca il top eh sì se ho bisogno di me posso fare così this is big brain time e adesso non ce l'ho più cazzo scusami non avevate il sapo mi avevo dimenticato di dirlo sono in tre è che era su di me insieme a e adesso qui sono in tre ma era stato qua un attimo fa Luca oddio da quanto come stai? lo sai che ti stavo veramente ma ti stavo pensando oggi perché avevo stavo cercando il gruppo di ingegneria e ho beccato quello nostro di quando facciamo la giornale porca miseria bella ti piacerebbe bravissimo mi hai dato pure l'assist capa Luca arriva la signora non l'ho vista bella comunque non c'è veramente mezzo range quel prowler porca miseria poi è vero il suo range un dash ma che è? arriverà è lo stesso range della mia ah no è più piccolo pippo signor salchiri vorrei aiutarti ma qualcosa ci fa entrambi quattro volte pippo scusate l'ho visto ora mazzio altri due persone dove sto devo aprire qua la pazzola oh riuscita ora 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 si si ma intanto non può prendermi ok arrivo simon non abbiamo vision sul support oh cazzo è stannato ok quindi dove devo stare eccolo ho perso il cocoon è inutile come ho fatto a morire? diamine buona diamine diana upsy daisy come il prete su tiktok cori cori non lo so Marco di cosa tu stia parlando anche c'è questo prete che un tipo gli ha scritto in privato se perda a cod allora cosa devo dire? se perdi a cod devi dire perdi l'indina se poi te lo dico anche in inglese upsy daisy prendo dodo ed è diventato un sacco me perché poi la gente gli commentava bestimmiando fortissimo no povera si già gli commentava in realtà gli faceva gli rispondeva io quella la distruggo no no c'è solamente un item non ti vergogno l'ho sbagliato non ci sono arrivato via occhio occhio ma c'è certo che l'ha c'è male eh ma io non l'ho vista non l'ho vista non l'ha lanciato l'abilità non mi puoi prendere prendo l'attore sono un bot mi ha tontato mentre facevo holy shit bisogna dire mano qua arrivo arrivo vabbè ok ragazzi è drake questo non è drake non è drake abort arrivo molto tardi ma arriverò occhio che c'è un mordecacchio qua è alla mia alle mie stotte alle mie stotte alle mie stotte attenzione attenzione c'è anche l'hab no no thanks ok sono estruso eh no raga io la lasciamo via perché hai due finali segretati che io ho ho sbagliato ho sbagliato io Marco prova a stilarlo ecco mi posso lanciare una Q volendo così ma comunque Galia è il mio povero più grande non siamo a morde ma chi lo dice arrivo Tiana no Marco so che non sono l'uomo poi se ora mi sarebbe probabilmente che prevederà ragazzi ci sarà un probabile evento di cui non so niente che prevederà la collaborazione di dove andare a chiedere questi no vabbè non arrivo non aiuto nessuno eh fanculo non è possibile che mi sciotti il support ma ora sono curiosa due pippo ma guardate che culo però ah ragazzi io vorrei veramente un forfettino no 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 oddio abbiamo murri con 6 kill il che solo lui a kill mh ma il tuo tabbo un attimo sì no ho visto contenete ho anche dato tante kill però cazzisci no oggi sono merda sto messo me la sono giocata anche abbastanza bene questa partita sì te la sei giocata bene no la sotto in questo momento perfetta non sono riuscito bene a gestirmi avevo problemi con i cooldown e il mana se no forse riuscivo a farmi anche lei per un attimo non sono riuscito a tirarla a cu però c'è un po' iura no sei là arrivo ghiana niente sei morto ti stai ammazzando un po' troppo vai con l'e vai con l'e vai con l'e poi con la w poi con la w poi con la w madonna dai che risolvono io non morirei così tante volte se non ci fosse sempre galio su di me il problema è che stavo tranquillamente passeggiando in giungla mi sono trovato a muro di gai si è rincazzato marcio intanto controllo il fiume piazza sto pingando carini i miei tunnel molto carini arrivo non è questa ultima un po' eccessiva e poi su di carri forse ci segue anche la signora qua ma perché c'è qualcuno qua che cattroia se l'avessi minato a me me l'abbia ucciso ma porca la miseria ma che sfiga ma perché non c'è mezza ward che cazzo era non vedi Simone come si è giocata bene si vorrei in uno special avesse aspettato un istante dopo anche l'andata invece che sono il ritorno ma avesse ucciso lui qualcuno non che fosse morto io non ho credo perché la mia volta è entrato in cooldown se sono morto durante che cazzo che cazzo di schifo sto combattendo perché ci sono dei cazzo di rotto porca merda che mi salta no vabbè non ci credo non ci credo sono stato squagliato da una cosa senza vita sono stato squagliato non ha senso porca miseria c'ho la build assassin come non è morta c'è questo benvenuto nel sì ma quello non gli permette di rimanere di vivere senza vita e invece qui la gente può vivere senza vita e morire con la vita mi ha fatto il 1283 da porca miseria aah porca c'ho il gallio nella faccia ok ah c'è il drake in meno di un minuto dovremmo fai dare per quello e vaffanculo niente ho perso i timpani io ho perso il cuore fin sta arrivando pal shield su di me non è che posso qualcuno come ho tirato di merda no pensavo ci fossero no sono morta da gale ilaria le mie orecchie robbie con due b robbie smettila mi serve ma che danno è ma questo dice 9 e 5 sì lo so ma era un cazzo di ragnetto ma squagliato quel ragnetto non fa questo danno perché non esiste un gioco da assassin che da difesa magica devo votare sì o posso votare no no non la malmortis mi farò mi faccio la cosa che le malmortis mi faccio la witsand ma scrivi in aria da almeno tre mesi concedi ma la malmortis mi che è da assassin da che cos'è da fighter è la witsand da da fighter Marco eh da fighter bruiser la malmortis porca miseria tra tre stack che da come vuoi che sia da assassin è come se dicessi che da assassin è pure la il coso come si chiama lo sterac Marco leggi la malmortis non ti da nulla che un briser ne ha bisogno un briser fa lo sterac al posto della malmortis wow 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 ok la morts non volevo l'acqua l'ho presa da dove eh dai siamo nella nella landa acquatica no no non siamo nella landa è la landa è la landa e ragazzi ci starebbero rompendo il sì inibitore ci sono a rompere un po' tutto a me in particolar modo i coglioni no non si dice Marco si può dire però che palle soprattutto qua là che c'è una build a cazzo dei cani e comunque sta fidata a merda quella è una build corretta ma da quando la build release è giusta no non si build assolutamente così e così ma ok le rune la build è giusta sì la build è giusta sì il fatto è che con con quella roba latta i nerli non fai troppo danno e nonostante questo mi ha squagliato non è il problema è questo il problema Marco un po' chiunque il problema è Galileo lei diventa inutile più avanti lui no ci sono 4-12 qua però la cosa è imbarazzantissima valle è un po' sono special sì fatto corri ne un altro non ne ho ancora uno non sono riuscito a ultare che palle che sfiga la zoni di me questo mo' si fa penta porca puttana appena prenderai appena prenderai il rapper si fa penta fuji 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 ma muri continuo a tirare qui indietro che poi non capisco perché le vorrebbero tranquillamente mettersi in forma umana e fare la q e w ecco il rapper il pentagl gg comunque bella bello special grazie e beh belle le torri non c'ha nulla di tank tankato 3 cazzo di fastidio sta storia che c'ha due zonia praticamente quella tipa ma come non l'ho presa run 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 no ehi dove sei se c'ho run io vinco contro morde scusa stavo pulendo qui ecco chi erano le voci in giapponese che sentivo eula che partita da merda che ho fatto raga ok qua fai chiunque abbia questo lo tiri qui che c'è una world che se no mordecaiser ci fa vector ah no non c'è altri qui in realtà ci fa proprio front door che poi ancora non ci sono fatti né baron né il drago non capisco come mi sono perdendo in casa penso sono una famosa il baron sicuramente io mi sono io non ho ancora la con l'anima non so cosa si stanno a fare la farsight perché sono scemo l'anima quindi andiamo su a fare il baron ma che andiamo a fare il baron no torno in base no lo stavo guardando ah ok oh no sono giù ragazzi io sono morto se stiamo arrivando stiamo arrivando e che cazzo però solo che mi ci dà il ping perché non posso non posso scudarmi è una matonda vabbè non ho davvero capito sto game sinceramente cioè non ho capito perché si sono fidati così tanto si è fidata solo un solo due sì ma cioè non solamente due erano fidati in tre e colpa io eh beh sì vabbè ragazzi era quella queste queste qua è una smartphone è un livello 46 marco erano tutti livello basso ah stiamo giocando con eh salchiri che è livello 40 amici vogliono volersi 63 è normale che troviamo gente di livello basso sì per la partita vedi che il livello basso che non è livello basso questo è il fatto immagino che giamo voglia unirsi quando lo invito ciao 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 se qualcuno siamo noi se voi volete restare restate se qualcuno vuole entrare io vado cosa simon continuo a esplorare in conomiglia nel mentre che aspettiamo la gente giamo l'ha invitato ma non entra ma perché giamo è una cazzata di merda giamo è subito simone ah no giamo è stato incastrato in flex giamo esce dalla flex no giamo giamo priorità agli streamer infatti c'è zello anche online zello pensa che siano in sì sono loro quelli da flex ma scusa mi serve una cosa in conomiglia i waypoint cambiano tra giorno e notte eccolo aione di carry run mi odierà ho dovuto andare top ah no ma pensavo che ti avevo visto top no penso di averlo messo per sbaglio perché non so ancora come come straminchia funzionano quelle cose nuove ma è uguale cosa cosa cambia no i pallini i cosi sotto in basso che si confondano non potevano lasciarlo come prima no avevo confuso il primo e il secondo poi si sono invertiti cosa fate a confondere vabbè Marco io sono pazzo no ho capito ce l'hai commesso no gemo mi ho chiesto se i waypoint di economia cambiano di giorno e di notte ragazzi sei buggato dice che dobbiamo mettere una wider variety of positions il problema è che non è entrato dentro Marco chi è che è uscito un muri perché sei uscito io per eh perché magari si sbaggavano no è perché io ero ancora in nel corso della partita precedente che vedevo l'estate ostia ah già è partito così oh devo infatti non capisco perché ma non entra no non ci sono così l'ultimo non entrerà per un presbio ho tolto il ruolo da streamer scusami cosa vuol dire? su discord vado di nonno stavolta bastardo se fossi capisci andrei di assumo la prossima volta mettiti guarda adesso devo spostare volta per volta perché sono figlio prossima volta mettiti direttamente nella stanza l'ultima quella che l'ultima legge che vedi così possiamo spostarci sta all'attesa live dove cazzo sta? ho perso ecco lo piano ho perso bella hello no 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 come cazzo no 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 fermi tutti cioè già la round urla sentirla quattro volte è peggio basta che c'è l'eco d'Aleon scusate aspetta che provo a abbassare un attimo perché non le cuffiette bastardo eh ho capito mi hai rimasto solo questo no 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 ha reportato la Riot non ha delle cuffie vere no perché ce l'avevo sul fisso è rimasta la mia ex quindi ah cosa? devo ficcare voglio andare a cosa di bizzarro ma richieda per l'amore del signore Giorgio? cassa win bello cassa ti prego dimmi che hai quello cosmico no c'ho il conto ragazzi adesso vi mostro il miglior pick jungla che avete mai visto penso dicesse il pene ho sentito Giorgio ho sentito Giorgio ma io sono fermo alla quarta parte da Andy non voglio andare avanti non ho aiuto veramente tanto ma non voglio da mobafire voglio pgg ok non fa neanche schifo che culo ma si dai continua a farti il terreno mi dice l'ho cassa di un cosmico minchia minchia lanciamo ma perchè è veramente figa con la schiena anche sto no si dai è figa però preferisco la conte dei miei no per me cassa di un cosmico è usbando material clipper tipo come si è proprio è è proprio è sto proprio all'inizio inizio dalla parte 4 tipo quando quando dal cuoco posso dire Stone Ocean è il peggior saga di tutte no lax no posso piangere cosa Simo Stone Ocean è il peggior saga di tutte di Jojo posso dirlo ragazzi adesso farò una cosa pazza pure Samira 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 eh eh non vedo l'ora che arrivi stibolo rani in italiano eh sì animata che in italiano ecco cosa potrei usare i miei stipendi per comprare stibolo rani io penso che mi mangerò un locker allora se ne pega delle sedie da gaming da 300 euro io devo finire di comprare no la quarta è un'ottima pausa tra qualcosa di epico e qualcosa di ovvio sei passato dall'epicità di Stardust Crusader alla normalità di davvero mazzo di Diamond Unbreakable però ci sta per abbassare un po' il livello Stardust Crusader non è subito prima di Diamond Unbreakable Stardust Crusader è subito prima di Diamond Unbreakable sì Stardust Crusader non è la seconda scusate no quella è Battle Tendency Battle Tendency cazzo vero e la prima è Phantom Blood Phantom Burad Corrieula fammi vedere le tue sì ma scusa ma stai giocando anche a Genshin certo me la posso permettere però non sto capendo in caso di economia con gli altri che hai fatto il gioco Marco tirate una laggiatta di FPS ci sono i nuovi Banta Kill no che cazzo di male che fa tutte le skin di Mordekaiser fanno questo non è vero sì no vabbè non è nel cespuglio spoiler no progetto no perdonatemi ma non gioco albero da una vita e mezza guardate chissà quanto gioca TFT l'unico vero live ok non sono più nel cespuglietto gioca TFT sì un po' di TFT ma in generale sto lavorando per giocare tanto com'è fare il medico non è male diciamo che si lavora con i malati terminali in questo momento ah divertente quindi ecco sì diciamo non è che il lavoro per poter la gente ma per farla morire in modo dubbidoso non è la cosa più allegra del mondo devo dire eh no diciamo che almeno non puoi fare tutti questi danni eh quello è diciamo il minimo sarebbe il posto perfetto per me quindi bon care terminale o lavorare no no sono veramente stilefatto da questo comportamento mi dissocio ovviamente in gioco veramente abbiamo Samira e Lux sì che palle abbiamo il fastidio e il più fastidio ma io mi speravo venite qua piccioni sbonkers orca vacca quanto lago e sai a giocare a due giochi insieme no alt f4 atto Genshin leggavo meno prima quasi ma visto che sono scienzi la pippo dice i primi due episodi si ti danno tante aspettative ma cala pippo almeno per me è calato che palle io vorrei che la Q dinami fosse veloce almeno la metà di quella della W di Morgana ma milerbo vorrei non cresce neanche invece stil borrani inizia lenta non era proprio così eh non aspettarti nulla all'inizio che esplode un po' più avanti che odio che odio che odio che odio Marco tra quanto è che riceverò un gank mid visto che sono con traction quando sarò fidato a merda quindi mai scusami ah scusami non l'avevo vista l'hai messo ce l'abbiamo messo adesso stavolento aiuto ah non l'avevo neanche visto l'avessi messo che merda in effetti la Q dinamica è abbastanza l'acqua dietro ok che c'è anche Aiver dietro io l'ho visto no 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 ma perché mi sento doppio remember the plassidium oh no la la isdi se se la non lo so se mai posso provarci ma saranno nel rimbombo riuscito al gank peccato perché Riven stava abbastanza indietro l'avevo visto per me è che non so come push non se non lo push così parma doveri andare first strike ah si è vero si build first strike ho preso samira crown occhio bot ho visto che palle quanto tempo ho perso sarei dovuto andare direttamente hai tolto metà vita con una w e una q w e una q w e blu mi ha guardato probabilmente l'acqua ma ma gragio ha vabbè ma stiamo scherzando ragazzi da raggiungo con lui è molto farm iber dov'è era penso sia in base adesso dovrebbe essere bot il draco ah io devo beccare perché oh shit mi prendo la base delle scarpe mi prendo iniziamo con la ma quali che non mi può buildare le scarpe Cassiopeia no davvero Cassiopeia non può buildare le scarpe no 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 non lo sapevi no non l'ho mai usata nella mia vita noto che arriva Xan ha un beccato ok oh pog non tocchermi da wave per favore me ne sto andando ma che hai un award da buttare al drake no chiedo per un amico no non mi è ancora passato il cosino sono indietro ah ah il cosino oh no simone a cubo verde è appena vintuto ecco bomba il cooldown il cooldown il cooldown non li so il cooldown non li so non c'è scambi ma conch ho fatto per sempre io winter's approach ooo si winter's approach winter's approach la te la aveva scusami non aspettavo se fate un king il listo sei un po' ieri arrivo in the bot lino i was giving her the doc the doc e perché perché con la i era bannabile e anche tu mori dovevi andare fast strike e lo so però con il il fast fleet work mi ripiglio troppa vita il famoso fast fleet work ecco come cazzo si chiama non so l'inglese sono il piede l'esto dai ernesto arriva wyvern arrivo anch'io da wyvern wyvern no ivern arriva la viverna scusate ma ho tradotto robe con delle viverne e mi è venuto a dire wyvern arriva axano ho la cazzo di r finalmente ma perché voi non andate sempre da altre parti me lo spiegate bellissimo non avevo mana avevo l'ax che mi mordeva il culo mi piace questo riven riven che ti aspetti riven senza oggetti da danno assoluta oh mio dio omar bellissimo come stai quanta gente stasera ho detto tempo fa giuse che mi piace tantissimo tornare su da voi appena apro la situazione migliore giuse è la marca ovviamente ovviamente infatti giuse è la marca su da voi esatto giustamente sta quanto sei bello omar ma è quanto te ma è quanto te ma sinapsi eh si sign up ecco perché non leggevo i nomi corretti quelli che dicevi te tu dici dei nomi io non li so e a me cosa importa giustamente sbonkers l'ho presa la stronza visto è che non ero posizionato bene e non ho mana mi so se fosse di rivenza la marca assolutamente devo beccare credo che lei sapesse no non sapesse non sapesse basta 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 adesso vorrà anche la signora aveva anche akshan akshan te holy shit ho visto qualcosa qua sotto mi son caccato non so cosa fosse che babardo no no la colla eh mi sa che si è morto girola torre ok si è tancato qualsiasi si è tancato il tancabile vediamo se riesco a prenderlo sto lendo anch'io ma è ancora già nella sua giugno no l'ho misso ho misato eh vabbè ho preso il ho preso l'herald marco non morirci per favore no questo mi ha rotto un po' tre quarti di gas non ci credo cosa è rimasto io ho la r per quanto ricordo la r di nami è abbastanza lenta come lo ski non il mio problema è che non arriva ah ma io ti ho preso ho avuto ieri in rank dato il multi clutch che ci ha fatto vincere il game il mio problema è che tra i minion faccio tantissime difficoltà a combattere che cazzo di range sta arrivando ma io sono perché sto facendo così tanto schifo non ho messo il quick cast comunque cambi qualcosa non andate run vai via scappa mi sono cacata ok aspetta adesso loro pensano di essere salvi in realtà faccio questo io sto benissimo qua no mannaggia dovevo prenderla con la palletta però questa mi serviva come il pane non riesci a guardare il drake vero? sì forse ce la posso fare una in tre non ci crederò che nel tribus c'è 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 una ward nemica ok ce l'ho fatta ora dobbiamo prenderci la force hour prima di action se hai il sei la lente dell'oracolo qua c'è una c'è una ward nemica no non ce l'ho ancora perché non ho ancora il coso furbo qua missano occhio a dakshan che fa malissimo acci picchia niente riuscita a pia la torre da cadavere eh sì cioè da mentre se ne andava capito? da cadavere? perché quella roba attacca a casa hanno usato la torre per dire messo un grosso più di action presa non dobbiamo prendere questa torre quindi dobbiamo ristabilire non so come l'ho presa attento mid attenti mid attenti mid sì ma ci sta pure riven intanto arriva eh sì sì perché si ci ha attenti mid a riven xd ok ah ragazzi adesso vi mostro quello che faremo bot siete pronti? io arrivo e ulto Samira voi pensate a Lux ok non la mana lo sai io ho la ho la ho la r vabbè me ne vado ma perché non l'hai ultata? eh perché era talmente tanto lontana da me che si è ribariata sotto torre quindi sarebbe stato un po' difficile fai tarla in ulti ma non sei riuscito a prenderla chiaramente praticamente a metà della reina? no eh quella quando l'ho raggiunta stava qua ok è scomparso Akshan grazie io devo beccare perché non ho mana anch'io e ho sogni non ho neanche il mana per piangere non ho no comunque mi sa che faccio l'altro oggetto da doccia ma il Fimbul no l'altro oh però vedi la gaga poi stanno tutti qua io vado a fermi il drago guarda io becco e posso tirare una ulti ma ma non c'è bisogno no non c'è ma ti ho visto o sei arrivato dalla no non sarete da qua ci buttano ci sono ci sono c'è che se no cassa di ma prendiamo un bot è certo che prendo un bot io ti tolgo esa mira te penso il lux sto arrivando non c'è nessuno saranno ah figurati oh non muore mica ma è è stupido il campione è stupido cazzo ma si è preso tutte le botte che io potevo dare non ha neanche difesa magica non non ha preso danno arrivo d'action un attimo finisco il rosso ciao Leo che vuoi vedere un pixel grande quanto non c'è dove è finita action no ero distratto è sentato perché io ho tirato una martellata non fare lei in avanti non vorrei l'ho fatta di lato in realtà e no comunque falla evasiva oddio mio l'ho fatta di l'offensiva ma ci sembra ma era ma era ah perché mi sa si fai danno però ti serve per riposizionarti non peraltro in questo caso sei troppo indietro eh ma mi sa cioè la usavo per far per far partire la doppia cioè per far rompere la doppia v che parla quella non faccio danno dovete darlo vuol dire che vuoi che ce ne andiamo va bene perché vorrei raggiungere il 16 se posso se posso prendermi di un'altra lane o fare qualcosa tu tu ok ok perché toccami la jeans si non posso eh non posso rimanere in soluzione non pensavo avesse così poca vita aiuto è troppo tardi sono morto no ci sono i minion oh dico sta arrivando boncherini sono l'unico che non ha ancora chiuso non c'è anch'io anche la per sé ho un farm di merda ma com'è possibile però avevo finito le scarpe e ora ho finito un primo oggetto yeee com'è possibile che Samira abbia meno farm di Samira abbia meno farm di me ma avesse zero kill è un oggetto non lo so perché tu hai comprato la goccia quello è vero 400 gold in più uffa non sto cercando a fare un cazzo salarin mica quanto farm quella kshan no pazzo cosa mi servirebbe ora la tia ma oh ma basta sta mappa è ancora vivo marco sì ma porca miseria oi si salvano tutti l'ho posizionata di merda io ho di nuovo utilizzato la in maniera offensiva daaaai non va slow oddio non credo stai così stupito da beccare e invece le sciali no ma non c'era bisogno non c'era bisogno, c'era un minion sta arrivando, non so cosa posso fare ma sta arrivando voglio il zuculetto non sono riuscito a prenderlo ho aumentato, e non ce l'avevo ulti speravo di riuscire a uccidere qualcuno raghetto la dinna, due volte aiuto sta arrivando vieni verso di me vieni verso di me gg raghino rake? così tanto per comunque io c'ho tutte le kill di sto file praticamente sì no, io ho preso una pacca sulla scala e via ma che c'ha sto Drake? eh, ti ressan praticamente mi sembra un po' cirrotico però eh, che è Mtech? sai Sinjad? ah urg 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 oh c'è un po' di movimento giù arrivo arrivo non penso che ci sia bisogno ci assicurko di esplode entrambi guarda sono a livello un piccolo al di cari il livello 11 una piccola luce cioè proprio vabbè eeeh aspetta sta arrivando un po' di gente arriviamo e vabbè mettili qua puoi killarli puoi killarli senza problemi Jace credo di aver evitato basta che non ti hit a Lux Dio mio mi sto incazzando eh si è stata avversata se avete una world mettetela giù aspetta 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 l'ho messa l'ho messa lì dietro 8 secondi l'ho messa qua eh ma c'è già quella in una due ore aia mamma mamma mi cago mamma no mamma no 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 ragazzi io veramente sto per urlare io ve lo giuro che sto per urlare aiuto Ranna eh esatto io sto veramente per urlare perché? perché non sto riuscendo a prendere neanche un assist tutti che corrono fuggono una cosa assurda con quanto sia salvata arrivo ragazzi incredibili mi sono stato le orecchie grazie Run allora le orecchie mi servono ancora mi spiace oh Dio non ci credo non ci credo non ci credo io non ci credo non muore nessuno se li prendo non muoiono ma con un cazzo di vita restano poi dopo la lichbane vado di shadow plan mi arriva non ti salvo no no ah fa troppo danno sono allora che ci credo che 甚麼 mi che mia è la Ma io qua? Ma è morto, arrivo Sto muovendo fortissimo Sto muovendo la coda fortissimo Io faccio l'unica cosa che posso fare Ulto a cazzo La R Locatore colla? Eppure eri uscita da Riven così Cioè ragazzi si è preso una mia Q in faccia Dove sono amici ho paura Come è possibile? Mi serve per fare i tecnici Non posso fare i tecnici Ran puoi fare i tecnici Ok che oggettivo E' il camp tech purifier No me lo dovete dire in italiano Il purificatore camp tech Putrificatore Ah ho capito Ah è vero Putrificatore è vero Ho capito Quello che sembra un pesce rana Se lo dici a te Non mi fido No rapido Lo faccio Putrificatore Sembra un arvalo verde Un pesce rana esatto Un arvalo Un ranvalo No Comunque non è più quella la build Si builda con la crown adesso Con la crown Con la crown Con la dei maghi Io odio questa passiva La passiva di sto cento Tu c'ho il livello 16 E gli hanno baffato il danno magico No è perché Ti fa intare di meno Così e mi posso fare quello Il pezzo è tutto uguale Quindi vado di putrificatore No ma finisci l'oggetto Beh lo faccio dopo Ma qui io non ci sono E quando esci Al posto del sandè Con quanto l'ho lasciato L'ho lasciato 3 di vita E il loro jungler Devo aggiungere un altro commento Ma non l'ho fatto Non tocca ammazzare prima lui Perché se no Si c'è ogni volta Puoi fare quello degli shield Da assassin Quale champ? Quale dei tanti Che stanno in questo game? Lei? O lui? C'è anche lei Anche lei che è rotta L'unico che è bilanciato Anche scarso È L'alberello Akshan Akshan Giriamoci 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 Ok ce la vivi con Akshan Mi ha ammazzato però Ve l'ho messo Bravissimi Non so perché ho utilizzato lei Non serve a niente Sono morta ma ne valsa la pena Ne valsa la pennica Sta arrivando Vediamo un po' se l'interno E vi seguono Si vabbè Lux Ma mi ha copiato l'assist Ma porca miseria Che nervoso C'è porca mignota Eh no cosa 9 secondi Akshan Prendiamo questo E passo Se noi possiamo squagliare L'inib Jail e Baron No Prendo un blu Per me E allora non lo squagliamo Non c'è Arriva Io e Marco sono qui Sono qui Nascoltando Ma non c'è più la bomba qua No con la landa Cantec Molta roba scompaio Un pirla Non ho Cotto il blu Il me lo sono fatto Me lo sto facendo io Non ti il Il Me faccio la motosiga qua Il Camp anche Au 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 Avevo sbagliato lo smithers No Io Io Sono Cassadin Però No Io Sono Jail Però Ho detto Penso se si per dire altre cose Molto Trici Anni sotto C'è Anni sotto Usa la porta sul retro Torre salvia Sono cazza di un 17-7 Boom Blop Questo si chiama bonk Porca merda Lux Minion Minion Bonk Odio i game di questo genere per me Soprattutto facendo un cazzo Due coglioni Cazza di neff Fortissimo Vabbè in late 27 vorrebbe un vedere Anam Anam Dico Cazzo Porca merda Cazza di neff Dico Cazza di neff Ah no sei tu Oh che spavento Don't worry Di api Mamma mia che spavendo Spavendoso Mi sono un po' cacata Ecco Tipo in questa partita Non ho fatto nulla Te eh perché io Vabbè non gli ho fatto un po' più di Ebbè sono comunque 1-4-8 Ce ne vuole per aver fatto meno di me Che palle Quanti scudi aveva Off Potevo beccare Avevo rabato di Coso Tra 20 secondi C'ho la Cazzo Abbiamo l'anima Possiamo Intare Nel senso che potete anche Tirare il dito in pace Io ho intato Ho preso troppo la lettera Quello che hai detto Ma è l'anima Continua 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 Merda Regà Quello Che cazzo era Perché sono resuscitato E poi sono morto È l'anima È l'anima Della Delli mortacci Ecco Anche quella Delli mortacci Guarda qua Sono pure Full build Fa paura Vabbè Ho fatto un po' De roba Cazzo avrei potuto Zoniare Che imbecille Gli avrei cotti Con la zonia Albero Abbiamo fatto Ace Casa Su race Che ti Hai fatto Veloce Con la vita Ma ecco La W Ha un Annumamento Della autoattacco Della autoattacco Non è Non è Un reset O la nulla Bello Cassa Di nome Lo ricordavo Così Forse perché Non ho mai giocato Contocente Al mio livello Probabile Bene Io mi fermo qua Direi che per oggi Direi che anche per oggi Il pane Se l'hai portato a casa Beh direi che Simo si merita il gg Mi ha preso Ha fatto più Oh sono salita Di livello Yeeey Che è quello Io facevo un sacco Di danni E poi te li rivolivi C'è sta Eh Sì C'è sta Contrata Devo fare io Più danni Amici Grazie mille per essere passati Sto accrepando di sonno Noi ci vediamo Boh Domani Vi farò sapere Ciao Ciao Belli Buonanotte Ciao